Milan, sei abituato a marcare in campo attaccanti che ti danno poco tempo per pensare. Oggi invece siamo noi che ti mettiamo alla prova. Andiamo! Salvataggio sulla linea o gol vittoria? Gol vittoria. Vikings o Game of Thrones? Vikings. Hamsik o Skirtle? Hamsik. Cuffie o cassa? Cassa. Hockey su ghiaccio o basket? Tutte e due. Dolce o salato? Salato. Marcatura a uomo o a zona? Marcatura a uomo. Musica slovacca o internazionale? Tutte e due. Sardegna o Caraibi? Sardegna. Brad Pitt o Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Mare o piscina? Tutte e due. Instagram stories or Instagram post? Instagram post. Piazza Duomo o City Life? Tutte e due. Alba o tramonto? Alba. Suv o macchina sportiva? Suv. Pizza o risotto? Pizza. Smartphone o tablet? Smartphone. Filter o no filter? No filter. Angelina Jolie o Megan Fox? Angelina Jolie. Cuore o testa? Cuore. Parigi o New York? Parigi. Salto in alto o salto in lungo? Salto in alto. Videogiochi sportivi o sparatutto? Videogiochi sportivi. Allenamento matutino o pomeridiano? Matutino. Federer o Nadal? Federer. Volpino o Labrador? Volpino. Hamilton o Leclerc? Hamilton. Fanta Calcio sì o Fanta Calcio no? Fanta Calcio no. Tatuaggi sì o Tatuaggi no? Tatuaggi sì. Ma questo è difficile. Tuo gol contro la Roma o l'Atalanta? Tutte e due. Grazie mille. Hai superato il nostro test. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti